Bentornati a Panorami. Ieri è stata la giornata della prima chiama delle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica e la partita a cui rinalizia naturalmente è una partita e una vicenda eminentemente politica, anzi super politica, nel senso che è difficile trovare un'elezione, un momento della vita pubblica, della vicenda collettiva, nel quale la politica, anche la politique politissienne, come direbbero i francesi, risulti altrettanto significativo e rilevante. Del resto, come ha detto uno dei leader degli schieramenti dei partiti in campo, Matteo Renzi, è appunto impossibile pensare di diventare Presidente della Repubblica senza chiedere il consenso dei partiti. E dunque partita, per l'appunto, decisamente eminentemente politica e in alcuni tratti anche politicistica. Ma ci si può domandare se l'elezione del Capo dello Stato non abbia anche tutta una serie di risvolti ed implicazioni di altra natura, innanzitutto di tipo economico. Non direttamente, naturalmente. La Costituzione non prevede alcun coinvolgimento diretto, come ovvio, del Capo dello Stato all'interno delle questioni economiche, ma con il cambiamento profondo della Costituzione materiale, a cui assistiamo da almeno 15 anni a questa parte, ecco che allora il ruolo del Capo dello Stato diventa decisivo e importante, quantomeno, anche in alcune questioni che riguardano l'economia nazionale. L'economia del sistema Paese inserito all'interno di reti globali, di filiere internazionali e soprattutto all'interno di quella Unione Europea, che è anche un gigantesco, straordinario mercato, e che guarda appunto con grandissima attenzione alle vicende italiane dell'elezione del Presidente. Perché il Capo dello Stato è il garante dell'unità nazionale, oltre che della Costituzione, ed è il riferimento, l'interlocutore, dei suoi pari grado, degli altri capi di Stato, ed è un punto di equilibrio fondamentale della politica italiana rispetto ai contesti internazionali all'interno dei quali si colloca e rispetto al sistema di alleanze non solo della Nato, ma anche appunto di quello sovranazionale dell'Unione Europea, dove si giocano partite economiche essenziali. Ecco allora di qui per esempio le pagine scritte dall'Economist sull'esigenza che Mario Draghi non traslochi al colle riguardo all'immagine, alla stabilità di un paese letta attraverso le sue figure chiave, le sue figure apicali dal punto di vista politico. E tutto questo avviene anche rispetto naturalmente alla centralità della figura del capo dello Stato dal punto di vista simbolico, dal punto di vista degli equilibri delle alleanze internazionali per alcune grandi aziende di Stato, come si sarebbe detto un tempo, per quelle che riguardano la difesa, l'aerospazio, per quelle che si occupano della geopolitica dell'energia, oggi così importanti. È chiaro che le multinazionali italiane che competono sui mercati internazionali possono contare su una serie di asset in più, innanzitutto la reputation, se il capo dello Stato è il punto di equilibrio di un sistema internazionale in cui l'Italia viene rispettata e riconosciuta nel suo ruolo, anche nel suo ruolo dal punto di vista della proiezione internazionale. E infine per un paese come il nostro, che ha vissuto nel corso del 2021, 432 grandi operazioni da parte di fondi di investimento, una delle quali, per fare un esempio molto noto, è l'acquisto da parte del colosso dell'uso francese Elvé Hashem del Palazzo e della Pasticceria Cova di Milano. Ecco che in una situazione di questo genere, di nuovo, la stabilità e la reputazione internazionale del paese garantita dal Presidente della Repubblica è sicuramente simbolica, ma ha tutta una serie anche di risvolti molto concreti dal punto di vista dei riposizionamenti del capitalismo internazionale.